Sono costretto a entrare su un piano biologico senza perdere però di vista quelli che sono gli aspetti comportamentali o cognitivi che fanno parte del vostro lavoro. Nella prima diapositiva cerco di far capire come questi aspetti che stiamo affrontando possano essere declinati attraverso la metodologia tipica dell'apnei, cioè della psico-neuro-endocrino-immunologia perché ci sono durante la gravidanza e poi durante il parto e poi nel periodo subito dopo il parto aspetti che sono di tipo psichico come ad esempio la condivisione emozionale tra madre e figlio, aspetti di tipo neurologico perché la mamma deve in qualche modo spostare il vissuto del proprio sistema neurovegetativo da la funzione di attacco e fuga personale verso una applicazione più diretta all'esigenza del bambino. E poi i due aspetti che mi sono stati affidati. Per quanto riguarda la parte endocrinologica potrei chiudere così, segnalare come l'ossitocina ha un picco di concentrazione durante l'assuzione del capezzolo, questo picco fa sì che venga espulsa la placenta e quindi questo porta quasi ad una conclusione della biologia del parto. Però non è così semplice, poi ci sono le endorfine, ci sono altri ormoni che intervengono e che rendono complessa la situazione di rapporto tra madre e bambino e neonato in questo caso. E poi gli aspetti immunologici che potrebbero in qualche modo caratterizzarsi soprattutto nella parte che prevede il contatto del bambino e del neonato con le superfici del corpo della mamma ricche di germi. E quindi questo porta a modificare il microbioma del bambino. Noi sappiamo che se il bambino nasce attraverso il canale vaginale acquista un microbioma con delle caratteristiche favorevoli, un microbioma diciamo buono, se invece nasce da taglio cesareo perde questa possibilità e il suo microbioma non sarà favorevole per le sue funzioni. Però non è così semplice, non posso limitarmi a parlare di ossitocina e di suzione dal capezzolo perché poi gli ormoni implicati nella cavitanza sono diversi. Potrei però, per essere sempre sintetico, per non essere troppo biologico, far vedere come esistono degli ormoni che sono favorevoli alla funzione materna, l'ossitocina, la prolattina, l'endorfina, l'ossitocina che in qualche modo si correla al concetto di nidificazione, alla progettualità di famiglia della mamma, la prolattina che in qualche modo riesce a coordinare la vita di coppia attraverso alcune sue funzioni sul comportamento della mamma, le endorfine con tutto il loro carico di euforia, di aspetti positivi, e però poi abbiamo altre funzioni ormonali che hanno effetti utili ma contemporaneamente sfavorevoli. Gli estrogeni che implicano una iper sensibilità, una iper eccitabilità, il progesterone che in qualche modo attenua, che in qualche modo rallenta, le catecolamine necessarie per quanto riguarda la reattività biologica, perché in qualche modo attivano delle funzioni, e l'aggressività tipica della vasopressina. Quindi è il gioco tra questi ormoni che in qualche modo poi determina il comportamento, il comportamento, come dire, che la mamma avrà sia durante la gravidanza, sia durante il parto e sia nel periodo immediatamente successivo. Però ci sono delle condivisioni. L'ossitocina, che ho citato più volte, perché sicuramente è un ormone molto importante, è vero che è prodotta dal Corion, ma è prodotta anche dal sistema nervoso centrale e ha una funzione ampia, perché regola la montata lattea, ma anche il livello, come dire, di ansia materna, il suo umore e quindi anche il modo con cui la mamma poi si interfaccerà con il neonato. Le relazioni che mi hanno preceduto hanno puntualizzato questi aspetti. Ma ci sono anche altri, come dire, fattori ormonali o enzimatici che sono condivisi. Ad esempio, il brain derived neurotrophic factor e la metalloproteasi sono due fattori, uno di tipo ormonale e uno di tipo enzimatico, che hanno sì la funzione di regolare la neurogenesi. Il BDNF credo che sia il secondo fattore individuato dopo il fattore di crescita neuronale, quindi è fondamentale nella neurogenesi. Però il BDNF e la metalloproteasi sono anche in grado di regolare l'impianto dell'embrione e l'angiogenesi placentare, quindi la funzionalità della placenta e quindi la buona evoluzione della gravidanza. Ma Corion, placenta e il sistema nervoso centrale condividono anche altre funzioni, come la somatostatina, la neurotensina, l'encefalina, il cortisolo, il fattore di crescita insulin-like e poi il responsive element binding protein. Sono tutte funzioni condivise e la condivisione di queste funzioni che poi determina la qualità del periodo della gravidanza, la qualità del parto e la qualità del periodo immediatamente successivo. Dal punto di vista immunologico, esistono delle modificazioni. L'interfaccia materno-fetale deve in qualche modo regolare la funzione immunitaria e lo fa lasciando prevalere la funzione dell'immunità innata rispetto a quella dell'immunità adattativa. All'inizio della gravidanza l'endometrio ha una trasformazione che viene chiamata decidualizzazione e questa trasformazione porta ad un traffico di cellule immunologiche che vedono in qualche modo in evidenza gli NK, i natural killer, i linfociti T e i macrofagi. E nel primo trimestre sono proprio questi natural killer uterini che anche se appartengono a questa popolazione immunologica rappresentata dagli NK hanno delle funzioni leggermente diverse rispetto a quelli circolanti e soprattutto la loro attività è caratterizzata da un'attività citolitica e ad un'aumentata espressione di recettori inibitori. A queste modificazioni locali poi corrispondono delle modificazioni periferiche. Ad esempio un fatto molto interessante che in qualche modo sottintende a delle modifiche del pattern immunologico in gravidanza è il fatto che alcune malattie di tipo sistemico come l'artite aromatoide oppure la sclerosi multipla subiscono dei miglioramenti durante la gravidanza mentre invece altre malattie come il lupus e l'es tendono invece ad aggravarsi. Un fatto sicuramente importante è che a livello periferico deve realizzarsi, è opportuno che si realizzi, uno shift tra l'attività TH1 e l'attività TH2 perché un buon equilibrio tra queste due attività può consentire l'evoluzione favore della gravidanza perché l'attività di tipo TH1 che si basa sulla produzione di alcune citochine come l'interferon gamma, il TNF, l'interleuquina 2 l'attività TH1 da una parte favorisce l'impianto dell'ovulo fecondato dall'altra parte in qualche modo interviene al momento del parto però è sfavorevole rispetto alla progressione della gravidanza e quindi è bene che ci sia poi uno shift verso l'attività TH2 caratterizzata da queste altre citochine l'interleuquina 4, la 5, la 6, la 13 perché l'attività di tipo TH2 in qualche modo è correlata alla garanzia della gravidanza nel senso che contrasta l'interruzione contrasta l'abortività ecco perché il bambino che nasce avrà un'impostazione immunologica orientato verso l'attività TH2 che è l'attività che poi propende a malattie di tipo allergico quindi il bambino che nasce è predisposto funzionalmente ad essere un allergico e quindi poi ci sono ovviamente a causa di queste considerazioni una serie di indicazioni che devono essere date alla mamma affinché questa tendenza in qualche modo venga messa in equilibrio e venga contrastata alla fine della gravidanza nel terzo trimestre gli aspetti immunitari sono caratterizzati da una riduzione dell'attività delle cellule dei T-linfociti anche dei B-linfociti e degli NK e da un aumento invece dell'attività funzionale dei monociti delle cellule dendritiche e dei polimorfonucleati tutte queste funzioni però non sono sganciate dall'attività di tipo ormonale c'è una correlazione tra produzione ormonale e atteggiamenti e declinazioni del sistema immunitario prima Elena ha espresso un concetto molto importante e cioè che parlare di gravidanza di parto di perinatalità che sarebbe il periodo immediatamente prima del parto il parto il periodo immediatamente dopo è molto riduttivo non ha senso considerare questa fascia questo periodo questa fascia di tempo senza avere quella che oggi va molto di moda una contestualizzazione e per contestualizzare vorrei esprimervi alcuni concetti intanto i mille giorni teoricamente non sono più sufficienti perché c'è un periodo precedente la fecondazione di circa un periodo di sei mesi quindi 180 giorni in cui già c'è una vulnerabilità e cioè i gameti maschili e femminili durante questo periodo possono subire delle interferenze delle modifiche a causa di fattori ambientali che si traducono poi in effetti epigenetici e quindi bisognerebbe già sei mesi prima dell'idea dell'accoppiamento già sei mesi prima cominciare a lavorare in regime di prevenzione e durante la gravidanza adesso cerco appunto di entrare un po' nel merito dei problemi che sono di vostro interesse vedete che c'è un periodo di vulnerabilità rispetto ai fattori ambientali vulnerabilità del feto che è particolarmente attiva nel primo trimestre e vedete nella diaposità la parte rossa le strisce rosse indicano il periodo di vulnerabilità e vedete che il periodo più ampio è quello che riguarda lo sviluppo del sistema nervoso quindi il sistema nervoso del bambino è particolarmente vulnerabile e lo è per tutto il primo trimestre mentre invece vedete nella diapositiva che altri distretti dell'organismo hanno un periodo di vulnerabilità ristretto e questa vulnerabilità è dovuta a fattori ambientali di vario tipo vedete i farmaci i pesticidi i polifenoli gli idrocarburi aromatici gli inquinanti atmosferici i metalli pesanti gli ormoni eccetera eccetera tutte sostanze che attraverso meccanismi di metilazione ottengono delle modifiche di tipo epigenetico sul prodotto del concepimento che poi avranno delle conseguenze nella sua vita futura fatti che vediamo sintetizzati in questa diapositiva come vedete dove vedete appunto che fattori di vario tipo ambientali carenze nutrizionali lo stress materno possono dadursi attraverso modifiche epigenetiche in problemi importanti fondamentali dell'individuo che sta per nascere che sono le malattie di tipo ad andamento cronico e restando nell'ambito della situazione ormonale che dovrebbe far parte della mia presentazione vedete come l'obesità il diabete di tipo 2 l'insulinio resistenza e la sintoma metabolica hanno radici in fenomeni che avvengono durante la gravidanza e se la mamma è obesa durante la gravidanza se la mamma è obesa durante la gravidanza l'outcome del bambino che nascerà potrà essere al rischio di essere caratterizzato da una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari da una maggiore incidenza di ictus di iperinsulinemia iperglicemia eccetera eccetera gli stessi aspetti che troviamo nella mamma denutrita quindi la denutrizione in gravidanza o addirittura l'eccesso di nutrizione attraverso l'obesità portano a questi rischi oppure per restare in argomenti che sono più così cari alla vostra attenzione di aspetti neurologici i disturbi del comportamento i disturbi cognitivi come l'autismo oppure la sindrome da deficit di attenzione l'autismo ha subito in questi anni una esplosione vedete che 40 anni fa veniva segnalato un caso su 1.500 nel 2014 un caso su 68 e nel questo lavoro mi sembra sia del 2018 se non sbaglio un caso su 40 quindi ci troviamo di fronte ad una pandemia non è solo il coronavirus la pandemia è legata anche ad altre situazioni di malattia come abbiamo detto lo spettro del disturbo autistico sempre per problemi di tipo ambientale ovviamente alcune precauzioni si possono prendere non possiamo contrastare tutto quello che ci sta intorno e che ci minaccia però se la mamma adotta alcuni comportamenti come utilizzare dei materiali evitare di utilizzare materiali di plastica che contengono sostanze come i policarbonati che possono avere questi effetti tossici oppure in microonde in ceramica o in vetro piuttosto che in plastica oppure evitare di assumere cibi scatolati cercare di allontanarsi dal rischio di assumere attraverso alimenti i pesticidi che sono contenuti nelle acque di irrigazione dei terreni e quindi cercare di fare una scelta alimentare di tipo biologico che mette in garanzia rispetto a questo rischio per tornare agli aspetti ormonali in gravidanza può succedere di tutto esistono questi lavori che mettono in evidenza come il rapporto tra la lunghezza del secondo e il quarto dito è legato all'esposizione in gravidanza al testosterone ma non nel senso che sono i maschi ad avere questo problema in gravidanza c'è un'esposizione al testosterone fisiologica anche nelle gravidanze di tipo tra virgolette femminile se il testosterone è in eccesso se il testosterone è in eccesso il secondo dito cresce di meno allora uno dice vabbè è una cosa importante il problema è che questo rapporto tra secondo e quarto dito ha delle ripercussioni dal punto di vista biologico ad esempio il pattern che vedete sulla destra il secondo dito più corto quindi significa esposizione al testosterone in gravidanza fa sì che il soggetto fa sì che il soggetto che nascerà se è femmina sarà protetta dal cancro del seno se è maschio invece sarà a rischio del cancro di prostata ma non è solo questo è che il soggetto con il pattern di sinistra è un soggetto molto più empatico molto più portato alla comunicazione rispetto al soggetto del pattern di destra vedete il secondo dito più corto che sarà un soggetto invece più chiuso più introverso quindi ci sono anche questi aspetti da prendere in considerazione e d'altronde d'altronde l'assunzione di pesce più di tre volte a settimana a causa del contenuto di metilmercurio può agire come interferente endocrino e quindi portare delle modificazioni degli aspetti come dire sessuali del nascituro quindi ci potranno essere nel nascituro delle anomalie del sistema urogenitale o delle anomalie anche della identificazione di genere vorrei con questa frase che secondo me è molto importante che voi intanto state leggendo io leggo solo la prima parte l'ultima parte Dio ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me perché ricasse tutto il mio corpo nacquero così le idee i pensieri i sogni e l'istinto però i pensieri muovono i neurotrasmettitori e creano ormoni e gli ormoni creano i comportamenti se una donna nasce da taglio cesareo se una donna nasce da taglio cesareo si creano degli aggiustamenti a livello recettoriale nel suo sistema nervoso centrale e nel suo neurovegetativo che fanno sì che questa mamma avrà difficoltà a partorire per via vaginale d'altronde lo stress secondo la definizione di Seil del 1956 lo stress indica la risposta di adattamento dell'organismo alle condizioni interne ed esterne questa risposta però non si esaurisce lì perché si accompagna a un aggiustamento di tipo psicofisico e ad una necessità di valutazione dell'accaduto che si ripercuote poi sull'emotività della persona e la mamma è sottoposta ad uno stress lo stato emotivo della mamma agisce sul suo neurovegetativo comportando il rilascio di ormoni e di catecolamine che poi hanno effetti sulla placenta e in realtà noi sappiamo che esistono delle conseguenze importanti del disagio materno intanto la qualità di vita lo stile di vita che ne risente perché le abitudini sono scadenti c'è un'alimentazione scorretta si ricorre al fumo si ricorre all'alcol c'è una ridotta attenzione ai controlli periodici che dovrebbero essere fatti in gravidanza quindi con una serie di aumento di rischio e il disagio materno può portare attraverso un'attivazione dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene a produzione di cortesolo e di adrenalina che possono comportare una scarsa crescita intrauterina oppure sempre lo stress il disagio della credenza può comportare una infiammazione intrauterina che porta al parto pretermine noi sappiamo quali sono i problemi se ne è parlato ne avete parlato ne parlate continuamente quali sono i problemi del bambino che nasce di piccolo peso o che nasce prima del termine e questo concetto del pretermine va pure rivisto attualmente si cerca di distinguere e di annullare la vecchia classificazione nato pretermine se è prima della 38esima nata a termine cioè tra la 38 e la 42 post termine dopo la 42 oggi si cerca di come dire di strutturare di definire in modo più dettagliato questo periodo e quindi noi parliamo di parto a termine se va dalla 37esima alla 41esima però nell'ambito del parto a termine distinguiamo il termine precoce che è dalla 37esima alla 38esima più 6 giorni poi abbiamo il termine vero il termine completo il termine pieno che va dalla 39esima alla 40esima più una settimana e poi abbiamo il parto termine tardivo che è dopo la 41esima e poi abbiamo il post termine che è dopo la 42esima la cosa importante è che si è visto che il termine perfetto della gravidanza dovrebbe essere dopo la 39esima settimana dopo la 39esima settimana questo è un concetto ormai come dire identificato e confermato perché gli studi mettono in evidenza che il bambino che nasce prima della 39esima settimana messo a confronto con il bambino che nasce a termine ha un rischio di disabilità da adulto dopo i 18 anni e d'altronde le femmine che nascono pretermine parliamo ovviamente in questo caso una nascita tra la 34esima e la 36esima settimana sono a un maggior rischio di diabete gestazionale e di preeclampsia che sono che rapsentano fattori di rischio di interruzione di gravidanza o comunque di parto pretermine stamattina si è parlato molto delle gravidanze medicalmente assistite e voi vedete che nel caso di gravidanza medicalmente assistite aumentano i rischi di nascita pretermine di scarsa crescita intrauterina e di prematurità e di peso alla nascita basso per l'età gestazionale e tutte queste situazioni sono situazioni di scarsa crescita del feto quindi da iugra lo scarsa crescimento interuterino lo small gestational age che sarebbe il piccolo per l'età gestazionale oppure la preeclampsia tosemica che porta alla nascita prematura e perché questo è importante avere individuato questi problemi perché poi bisogna cercare di stabilire delle strategie fortunatamente la scienza si viene in aiuto attraverso le scienze omiche e quindi è possibile in gravidanza attraverso la valutazione e l'esame dei liquidi biologici che possono essere il sangue le urine o nei casi in cui è possibile anche quella del liquido amniotico è possibile attraverso indagini tipo metabolomiche stabilire se la gravidanza è a rischio come in questa tabella si vede ma la tabella è molto più lunga è in grado di individuare la gravidanza a rischio per parto per diabete gestazionale oppure per scarsa crescita intrauterina oppure la PET che sarebbe la preeclampsia quindi concludendo spero di essere stato nei tempi il parto e il periodo perinatale rappresentano il risultato biologico di eventi che si svolgono nella loro complessità già prima del concepimento e durante la gravidanza e tutte le misure dedicate al controllo di questi eventi devono essere applicate e incentivate al fine di garantire il miglior outcome per il bambino che sta per nascere la metabolonica può consentire di prevedere e prevenire situazioni di rischio per il nascituro e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio